L'apertura dell'ospedale di Agropoli è stato un argomento scottante per anni e tuttora lo resta. Malgrado l'annuncio del governatore della campagna Vincenzo De Luca sulla riattivazione della struttura con varie funzionalità e soprattutto il tanto richiesto pronto soccorso H24, continuano le critiche sulla vicenda. Intanto Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum ed ex primo cittadino agropolese, incontrerà oggi il direttore generale dell'Asela Salerno Mario Iervolino con il quale, con ogni probabilità, verrà concordata la data per la riapertura del presidio ospedaliero. Nel giorno dell'annuncio Alfieri in diretta su Cilento Channel ha voluto dare una decisa risposta a chi usa e usava l'argomento ospedale per i propri interessi. Per chi ha sempre saputo cosa stava accadendo nel nostro ospedale l'apertura era un fatto certo. C'era attesa ma il governatore ha fatto questo annuncio con fermezza, si è tolta la possibilità di fare ancora campagna elettorale con la vicenda ospedale. Investimenti come questo ridanno dignità e diritto al territorio. In silenzio noi sindaci ci siamo presi le critiche. Ancora oggi le bocche parlano. I partiti che hanno chiuso l'ospedale non ci stanno, sottolinea Alfieri, ma il sipaglio si chiude qua. Credo che a fine mese De Luca sarà ad Agropoli. Vedremo l'apertura di una struttura chiusa nel 2013 dal centro-destra. Oggi la pazienza e la fiducia vengono ripagate. Questo territorio non poteva essere lasciato sguarnito.